Alla messa celebrata nella cappella della Casa Santa Marta, Papa Francesco ha parlato di due pericoli che possono tentare i credenti. L'idolatria delle immanenze, che si focalizza sulle cose della Terra, e quella che ci porta a cristallizzarci nelle nostre abitudini, come se tutto dovesse durare per sempre, come se non esistesse il tramonto. I discepoli del Figlio di Dio invece sono chiamati a guardare sempre oltre, dall'immanenza a guardare la trascendenza e dalle abitudini guardare l'abitudine finale, che sarà la contemplazione della gloria di Dio. Noi, i credenti, non siamo gente che torna indietro, che cedono, ma gente che vanno sempre avanti. Andare sempre avanti in questa vita, guardando le bellezze e con le abitudini che abbiamo tutti noi, ma senza divinizzarli, finiranno. Siano queste piccole bellezze che riflettono la grande bellezza, siano le nostre abitudini per sopravvivere nel canto eterno, nella contemplazione della gloria di Dio.